E raga benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video sul mio canale Siamo tornati qua per andare a parlare del Manchester United Allora Manchester United che perde la prima 1-2 Non sono nemmeno sorpreso, tanto sorpreso Più che altro io mi sarei aspettato più un pareggio che una sconfitta Cioè non mi aspettavo la vittoria dallo United ma nemmeno che perdessero Invece è arrivata addirittura la sconfitta Tenag che sembrava che dovesse fare gli spettacoli pirotecnici I miracoli far diventare questa squadra nuovamente una squadra forte Ma così non è stato come in realtà ragionevolmente ci si doveva aspettare Tenag è un bravo allenatore Ha fatto molto bene con l'Ajax Ma fare bene in Premier League con tutta questa competizione è molto più difficile Il Bride era una squadra molto più forte di qualsiasi altra squadra che abbia mai affrontato In ere divise Tenag E si è fatta sentire la differenza Come potete vedere dall'immagine Ci stavano in panchina dei nomi d'oro Tra cui ovviamente Cristiano Ronaldo E anche Varane Secondo me entrambi dovevano giocare titolari Maguire non ha fatto una brutta partita Anzi in realtà ha fatto bene Però secondo me Ronaldo doveva giocare titolare Perché onestamente Martial non mi ricordo se abbia toccato un pallone Non capisco perché Perché lo abbia messo in panchina e partiamo male Manchester United Del quale forse farò le pagelle Le pagelle dell'incontro Perché comunque io di solito le faccio del Manchester United Le faccio anche del Napoli E del Real Comunque adesso lo andremo a fare Qualche commento a caldo sulla partita Un po' le analisi prima del match Male Molto male questa squadra Il Manchester si deve riprendere Deve fare qualche cambio radicale E soprattutto devono cercare di Di fare qualcosa Di avere una squadra sensata Perché questo Manchester United Ragazzi è veramente messo male Io ho paura che questa squadra muoia Perché da ogni anno diventa sempre peggio Ogni anno sempre peggio Questa squadra non Inevitabilmente Secondo me non vincerà la parola E sì non vincerà Non si qualificherà in Champions Io l'ho data settima Ma non sarei nemmeno tanto soppreso Dove sarei arrivati Ottavio Noni Onestamente veramente È una squadra molto molto indietro Sulle altre Adesso Un attimo di pausa per me Vado a vedere i giocatori che hanno giocato Noi ci rivediamo subito Con le pagelle dei giocatori Partiamo dal primo giocatore del Manchester United Che è David De Gea David De Gea onestamente Non può niente Non può molto sui due gol Il poco da parare Il poco altro che c'era da parare L'ho apparato Quindi Sei perché non poteva nulla Non poteva molto onestamente sui gol Classica storia dello United Squadra scarsa in difesa Poco altro da aggiungere sulla prestazione di De Gea Passiamo adesso a Il prossimo Il prossimo è David Si David È Luke Shaw Luke Shaw Che fa una prestazione Onestamente è Scialba Non l'ho mai visto Non ho mai capito cosa volesse fare Cinque e mezzo onestamente Perché mi è sembrato un po' un fantasma Non Nulla 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 fa Normalmente nulla toglie Ma Non l'ho visto Un cross decente Non l'ho visto Non lo so Un passaggio Grasoterra decente Qualche assist Qualche bel passaggio Qualche tentativo di tiro Non c'è stato assolutamente niente Quindi cinque e mezzo Per la mediocrità Mostrata oggi Passiamo al prossimo Lissandro Martinez Va Lissandro Martinez Sei più Mostra C'è in realtà sei Più Lissandro Martinez sei È stato tra meno peggio Allo United Ma non è che mi abbia fatto Impazzire Non è che mi abbia fatto Illuminare d'immenso Onestamente Ho fatto una prestazione Di ordinario Di ordinario livello Come il suo compagno Di reparto Non Non è che abbia fatto Gli Gli straordinari Però non ha nemmeno fatto Schifo per dire Comunque sei Io lo possiamo dare Harry Maguire Harry Maguire Lo vedo molto meglio Della scorsa stagione Perché la scorsa stagione L'ha fatto veramente malissimo Questa volta Sei più Gli diamo sei più Perché comunque ha forzato Comunque ha Ha portato In qualche modo All'autogol Che poi non è servito a niente Che poi sta dovando Perché il Manchester Non è riuscito a ricavare punti Da questa gara Almeno un pareggio Secondo me si poteva Ottenere Visto l'arremmaggio Che si stava facendo Ma Come dico sempre Se non arrivano i palloni Agli attaccanti È un po' difficile segnare A meno che non si segnano fuori Ma È un po' un terno all'otto Con i tiratori Che allo United Che sono scarsi Francamente L'unico tiratore forte Che hanno Ovviamente è Ronaldo Ma non ci sono tanti altri Tiratori forti Secondo me Quindi Maguire fa Forse il migliore in campo Non lo so Sei più Perché comunque Riesce a far ordinare Amministrazione In difesa Fa qualche Buona cosa E forza All'autogol Ma niente Di straordinario Insomma Però mi aiuta La scorsa stagione Passiamo al centrocampo Che vede Bruno Fernandes Sicuramente Bruno Fernandes Che secondo me Bah Io non l'ho visto Cinque e mezzo Cinque e mezzo Perché il semplice fatto Che questo è Secondo me Un giocatore sopravvalutato Non è il fuori classe Che 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 ad alcuni Piace dipingere Cioè Non è Un fuori classe Non è il giocatore Che ti sbotta le partite È un buon giocatore Però non è Secondo me Niente di straordinario Senz'altro è forte Quello Non lo rego Ma oggi è stato anche lui Un po' un fantasma Onestamente Oggi Nel Manchester Se ne salvano pochi Forse I due I due I due Del reparto difensivo Ma l'unico Che Che probabilmente Ha fatto una prestazione Non dico bella Ma comunque Più che sufficiente Forse è stato Meguaglia Adesso ci dobbiamo arrivare Insomma Bruno Fernandes Non mi è piaciuto Ed è stato un fantasma Onestamente Non Non ha fatto niente Di interessante Nessun assist Nessun Passaggio Che potesse Diventare goal Male Passiamo al prossimo Mc Domini Cinque e mezzo Di chi stiamo parlando Di che cosa stiamo parlando Cioè Nel senso Ci stava un'occasione Che avevo lo spazio Per tirare dai 25 metri E si ferma Cioè La provi a tirare Un missile Può darsi Che ti entra E fai goal Può darsi Che prendi palo E fai goal Potrebbe essere Che ci sia Una deviazione E fai goal Ci sta una deviazione E la palla Arriva al tuo compagno Ci sta una Prendi una traversa Magari I portieri della pare Prendi un angolo Comunque Può succedere di tutto Ma non di certo Fare quella stupidaggine Poi si fa anche a monire Mettomini 5 e mezzo Ma forse anche 5 Ido 5 e mezzo Guarda perché Non ci possiamo aspettare Che sia il Modric Però veramente Pure Mettomini male Oggi il Manchester Fatica a trovare qualcuno Come quasi sempre Fatica a trovare qualcuno Che veramente Abbia fatto una gara Degna di noti Passiamo a Fred Che anche lui 5 e mezzo Come 3 centri A pista Un anno ha creato Gioco per gli attaccanti Guarda L'unica possibilità Che poi sembrava Anche essere offside Ma in realtà Bisognava un po' Ricontrollare Se la posizione Di Ronaldo fosse giusta E' stato L'assist di Ronaldo Per Rashford Che poi altro Si è mangiato un gol Però sembrava Anche essere fuori gioco Quella è stata L'unica possibilità Che c'è stata Di segnare E non l'ha nemmeno Creata un centrocampista L'ha creata Quello che dovrebbe segnare Vabbè Quindi vi fa capire Che oggi Il centrocampo Dello United Non ha creato Azioni da gol 5 e mezzo 5 e mezzo Perché Fred Non è un fuoriclasse Non ti puoi aspettare Che sia un fuoriclasse Ma questo Manchester Stare veramente male 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 Poi Ericsson Che Pure la sua prestazione Onestamente Lascia il tempo Che trova 5 e mezzo Perché lui deve essere Al creatore di gioco Ma oggi non ha creato Niente E Se bisogna aspettarsi Qualcosa Da qualcuno Nel centrocampo Il forte centrocampista Che è lo United Penso sia lui Onestamente Quello più raffinato Tecnicamente Quello che fa più assist Quello che Quello che sia né di più Trecentrocampista Probabilmente È Fernandez Ma secondo me È il più forte Non ha fatto niente Oggi 5 e mezzo Perché è il semplice fatto Che non ha creato il gioco Non mi è piaciuto Male Male oggi Ericsson Non mi è affatto Non mi è piaciuto Ma Come tutto il Manchester United Passiamo a Jedon Sancho Jedon Sancho Che 5 Tribbling Filt Robbe provate Non ha fatto niente In sostanza È questo Quello che 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 tiriamo fuori Da questa Da questa partita Sua Veramente male Veramente Veramente male Jedon Sancho Male oggi Non mi è piaciuto affatto Veramente 5 Perché non Non ne ha azzeccato a mezza Non c'è stato un assist Non c'è stato un cross Non c'è stato Non lo so Un tiro che si è stato pericoloso Un pallo colpito Veramente male Male Non è stamente un po' un fantasma Pure lui Non Non Assolutamente Assolutamente non convincente Assolutamente Rashford di male in peggio Si è mangiato 1-2 gol Diciamo che 1 se l'è mangiato Proprio In realtà Aronados Poteva essere in linea Era Era un po' indecisa la posizione Ma L'Aronados Ti ha dato la palla Mi era facile Perché in realtà Stavi davanti al portiere Cioè Dai Se sbagli questo Se sbagli quel gol Ti fa capire che i finalizzatori Alluminati Stanno veramente Stanno veramente boccheggiando Difficoltà veramente Grandi Male anche lui Male anche lui Male anche lui Che oltre a non fare niente Si mangia due gol Guarda Solo perché fuori gioco Non gli do 4 e mezza E gli do 5 Perché però Veramente male anche lui Perché non Non Il finalizzatore della squadra Non può Non può finalizzare così A mio avviso Quello è un gol mangiato E deve ritrovarsi Lo sa anche lui Passiamo adesso A quelli che sono entrati Proprio Il nominato Più volte da me Ronaldo Non valuterò Garnascio Dove non mi ricordo Chi altro è entrato Comunque gli ultimi 3 entrati Che hanno giocato 3 minuti Non si possono valutare Valutiamo solo Ronaldo E Van de Peck Beh Ronaldo sarebbe da dare Il senza voto Per il semplice fatto Che lui cosa deve fare Segnare Se no gli arriva un pallone Non può fare molto Ha provato A fare Qualcosina Qualcosina Ma non c'è riuscito Gli diamo 6 Perché avendo giocato 40 Passa minuti Non posso dare senza voto Gli diamo 6 Per il semplice fatto Che l'assist per Rashford Lui l'aveva fatto Ha provato qualche volta Qualche inserimento Non è stato servito Non ha ricevuto un pallone Non ha fatto quello Che ha potuto Insomma Quando capiranno Che Ronaldo Ti devi dare il pallone Lui deve segnare E non è lui Che deve Dribblare il giocatore E creare spazio Per tirare Dribblare il giocatore Fare l'1-2 Con quello Lo devono capire Perché non è più Quel giocatore L'esplosivo Che giocava A Real Madrid 10 12 Anni fa 8 anni fa Anche È un giocatore Adesso Meno mobile Che dribla meno Che fa quello meno Ma comunque Ancora è un finalizzatore Assurdo Probabilmente Tra i migliori tiratori Al mondo Ancora Non lo so Lo devono capire Lui Onestamente Oggi sei Perché non Potevano fare Più di tanto Passiamo a Van de Beek Van de Beek Che stessa cosa Gli do sei Stessa cosa Gli do sei Prova a fare qualcosa Ovviamente Scialba La prestazione Però Da dove è entrato Alla panchina Non ti potevi aspettare I gol Come da Ronaldo Io Se Ronaldo Entra nella panchina Ronaldo Non è il giocatore Che entra nella panchina Ed è uno Spaccapietra Se non sbaglio Ronaldo Da subentrato Non segna da molto Nell'ultima stagione Aveva segnato uno Contro l'Uchinese Che gli fu poi annullato Ma poi Nelle cinque o sei volte Che è entrato nella panchina Col Manchester Non ha mai segnato Ma non è colpa sua Perché lui Non è quel giocatore lì Pure Messi Quando entra la panchina Non segna spesso Sono giocatori Che devono giocare Tutta la partita Non sono giocatori Che entrano nella panchina E ti segnano un minuto No È una cosa diversa Van de Beek sei Perché onestamente Prova a fare Quello che si può fare Passiamo all'ultimo Che è Tenag Tenag Che onestamente Non l'ha preparato C'è Nei primi 15-20 minuti Fin quando Noi primi 30 minuti Fin quando Non hanno subito il gol Hanno provato a fare qualcosa Ma il problema È che serve segnare Il bel gioco Non serve a niente Se non segni Non serve a niente Poi Se fa il calcio spumeggiante E segni Benissimo Vinci Ma Il Manchester Deve pensare alla concretezza Non deve pensare a giocare bene Il Manchester È una squadra Che non vince un trofeo Da sei stagioni Sei Sei Da 2017 Quando vinse Quella Europa League Non ne vince mezza Il trofeo Guardate anche voi 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 5 stagioni 5 stagioni che non vince un trofeo Sei altra stagioni Sei da quella stagione lì E quest'anno Molto probabilmente Non è la città Alcuno Perché in Europa League Non sono Tre favoriti Tu hai Martial Martial Non gioca una partita In Premier League Dall'era di Cristo Non gioca da tantissimo Non gioca tantissimo Non gioca Una gara Di Premier League Da quando Gesù esisteva Da molto tempo fa Ovviamente È un iperbole Non è vero Però Tu Hai Ronaldo Ma mettilo Ma mettilo Si è visto Che era meglio Come idea Che era meglio Non ci stava il finalizzatore Nei primi 25 minuti 30 minuti È mancato il finalizzatore È mancato il giocatore Sul quale tu dici Ok Devo crossare Ma andato a lui Lui deve segnare Non ci stava Perché tutti entravano Così a far fallina E magari qualcuno veniva Qualcuno veniva Che con la deviazione Col colpo di testa Con Con il colpo al volo Con tutto Magari segnava E tutto qui 5 per il semplice fatto Che l'organizzano Anche Cioè Poi nel secondo tempo Tutto è risordinato Non provo a fare Una rimbaggio di cuore Va bene Ma cuore non basta Sempre Cioè c'è da fare qualcosa Allora Concludiamo questo video Dicendo che Concludiamo questo video qua Con le pagelle del Manchester Fatemi sapere se vi piace Questo format Ringrazio tantissimo Per la visione del video Ne ci vediamo alla prossima Da me è tutto Ciao E un'altra Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti